Bella a tutti ragazzi sono Bontax venuti in questo nuovo video post partita di Brescia Perugia 4 a 0 in questo video più che analizzare il post partita di Brescia Perugia scusate Perugia Brescia c'è poco da dire ci hanno preso schiaffi da subito fino alla fine Karacic ovviamente ha fatto un errore classico madornale prendere doppio giallo per magari anche nervosismo e farci espellere durato 16 minuti i Karacic e cambiare la partita da così a così Perugia che da lì ha dominato è finita anche solo 4 a 0 onestamente va da finire molto 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 peggio doveva essere una partita dove potevamo portare a casa almeno un punto i 3 se proprio ci andava bene 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 e invece no abbiamo perso malamente ok Brescia che adesso è sedicesimo in classifica e ha un punto dal 1-2 punti della zona retrocessione adesso farebbe i play out con la SPAL onestamente ragazzi non so cosa dire siamo passati da essere primi a inizio stagione e se zona play out onestamente si insomma bianchi sono sempre quei sono sempre quella squadra lì prima partita abbiamo giocato contro il Sud Tirol il campanello d'allarme secondo me è arrivato sin già contro la formazione bolzanese perché noi abbiamo vinto il 2-0 ok il Sud Tirol è anche la neopromossa neopromossa vicino al Bari stiamo facendo un campionato meraviglioso però il prima partita abbiamo vinto 2-0 a Rigamonti prima giornata c'è un'occasione calcio di rigore per il Sud Tirol steso mi sembra mazzocchi in aria già adesso non mi ricordo calcio di rigore le zeri mi para pochi minuti dopo Flavio Bianchi in contropiede fa 2-0 ok dici vabbè magari è stato un momento di distrazione insomma nervosismo però vabbè la settimana dopo Frosino ne prescia 3-0 per la formazione laziale presi a schiaffi anche lì hanno giocato solo solo la squadra solo Frosino hanno giocato veramente Brescia che non è mai sceso in campo dopo vabbè ci riprendiamo arriva un periodo dove vinci a Como Perugia-Modena Benevento in caso al Mattresmo solo che dalla sosta dal partito col Benevento a quella di Bari c'è stato un partito di Bari bruttissimo Brescia che perde 6-2 Mare che va sopra addirittura 6-0 Brescia che da Pustegna con Giacomo Olzer e Stefano Moreo il quale Moreo è stato poi adesso venduto e lì pensi almeno io ho pensato sia il classico scivolone che una squadra in B può fare cioè fanno tutte le squadre ma non solo in B ogni tanto perdi anche malamente non giochi bene problema che dopo inizia pareggio con Cittadella sconfitta a Cagliari pareggio con Venezia pareggio con Genoa pareggio con Lascoli pareggio con la Ternana dici vabbè almeno non vinci ma pareggi porti a casa un punto dai comunque lì in quel momento erano tutte le squadre erano anche attaccate ok vinci con la Spal dopo due mesi dall'ultima vittoria che era contro quella casalinga contro Benevento ma quella sempre casalinga contro la Spal Moreo ma che dopo inizia a perdere vabbè sempre lì eravamo terzi perdi con la Regina 2-0 in casa pareggi 1-1 a Cosenza salvato in estremis da Filabia Bianchi che segna sempre in estremis agli ultimi minuti perdi col Parma 2-0 perdi col Pisa 3-0 pareggi col Palermo 1-1 e lì eri già decimo eri già metà classifica poi perdi a Bolzano fai ancora più indietro ok ma adesso il fatto è che tu sei sedicesimo hai perso anche col Como in caso tutto rispetto per il Como hai fatto degli acquisti che si hanno iniziato a ingranare però li vedi hanno giocato bene almeno adesso parlo di Björkergren e Valor Rodriguez hanno giocato bene col Benevento però io col Como e con il Perugia non li ho visti poi è arrivato anche Coef Listovski Scavone però non siamo ancora lì siamo in una situazione brutta dove non facciamo più punti poi vabbè è stato anche cambiato non so scelta di Cellino pazza di mandare via Clotet riprendere Aglietti che dura due settimane dura partita col Palermo e quella di Bolzano e viene richiamato l'allenatore catalano Cellino ma perché sei mandato via Clotet hai chiamato mandare via Clotet e chiamare Aglietti ci stava era un periodo nero ma se lo butti via cioè lo mandi via perché ha perso col Suttirol che è Suttirol la squadra forte è molto più forte del Brescia e pareggio col Palermo sì dopo il gol di Nicolas Galazzi dopo circa 30-40 secondi ce l'hanno già pareggiato e dopo richiami Clotet non ha senso hai fatto praticamente invertito un senso di marcia magari tenevi Clotet qualche partita in più chiama Aglietti ma io non ho niente da dire sull'allenatore onestamente loro fanno il loro lavoro se non hanno i giocatori necessari per fare il loro lavoro al meglio e rischiano l'AC alzo le mani io non sono esperto in questo ambito sono un giocatore non sono allenatore io non so l'allenatore lo so non so come si facciano i progetti delle squadre non lo so ma signor presidente come mai ha preso due giocatori cioè scusi due allenatori e dopo cioè hai cambiato un allenatore hai chiamato un altro dopo l'hai richiamato vabbè ragazzi non so cosa dirvi speriamo di non tornare in C perché mi sa che Brescia non c'è mai stato in Serie C se non sbaglio buh non lo ricordo grazie